Quando il regime ordinò che in pubblico fosseroarsi libri di contenuto malefico e per ogni dove furono i buoi costretti a trascinare ai roghi carri di libri, un poeta scoprì, uno di quelli al bando, uno dei meglio, l'elenco studiando degli inceneriti, sgomento che i suoi libri erano stati dimenticati. Corse al suo scrittoio, alato d'ira, e scrisse ai potenti una lettera. «Bruciatemi!» scrisse di volo. «Bruciatemi! Questo torto non fatemelo, non lasciatemi fuori, che forse la verità non l'ho sempre nei libri miei dichiarata, e ora voi mi trattate come fossi un mentitore. Vi comando, bruciatemi!»